Poi ci sono state varie di serie che ho visto tipo questo Hi Hi Puffy Emi Yumi Questa serie l'ho vista in qualche episodio e devo dirti Rai Gulp E devo dirti penso Rai Gulp Riguardo comunque due ragazze che O comunque una di loro adora la rapica Fanno cavolate, sono due ragazzi molto belli da quel punto di vista Ed è un po' quello che tratta la serie per quanto riguarda la trattata Le cavolate che fanno E molto nella loro scuola soprattutto Comunque ci sono avventure di tutti i colori Sono due Lesbo E' una serie comunque Che è andata Non mi ricordo manco dove venivamo andata Vediamo un po' Rai Gulp K2 Cioè Anche se mi piace guardare queste serie troppo da ragazze Ma non perché ci sia nulla di male Ma non lo so Non mi va Avevo visto qualche episodio E devo dire Che hanno deciso di fare questa serie Che hanno deciso di fare questa serie Giusto per non impegnarsi perché ci hanno già tutto fatto Perché è semplice da fare Basta fargli urlare per 10 minuti questi tizi qua e basta E fine Cioè letteralmente Poi si complimenti alla creatività perché per tutte queste stagioni sono riusciti a fare tantissimi episodi Sempre originali e non tutti uguali Quello è vero complimenti a quel punto di vista Ma a quale scopo alla fine? Perché non avete creato nulla Nessuno si ricorderà mai di Hai hai Puffy E mi Perché non offre nulla Non offre letteralmente nulla Non c'è una trama come si deve per dire che è interessante Non c'è dei personaggi caratterizzati bene Ma per niente Non c'è un cavolo di nulla L'unico che veramente mi ha lasciato qualcosa Era proprio Teen Titans Con le emozioni Con il romanticismo Con quelle belle scene d'azione Lì sì che mi è rimasto tutto quello Invece qua no Qua no Devo dire la grafica No Cioè ma si vede quanto è minimale Per come era alla fine male Cioè